E' questa dimensione che si crea nel nostro passaggio in libreria, quest'oggi incontro con l'autore perché quello che abbiamo in sottofondo è un po' un perderci in posti, luoghi che rievocano un sacco di storia, cultura, tradizioni, ma soprattutto il valore di quello che è l'ambiente che ci circonda. Do il mio saluto e il bentrovato in studio a Giovanni Carraro. Bentrovato Giovanni. Ciao Donatella e ciao a tutti gli ascoltatori. Per noi non è un primo incontro perché Giovanni Carraro è già stato ospite di passaggio in libreria incontro con l'autore perché poi tempo fa abbiamo presentato il suo primo progetto poi concretizzato attraverso cartine, mappe e tutto quello che ci sta scritto che va sotto il titolo di riscoprire le prealpi trevigiane. Che poi ha avuto un incredibile successo, cioè un lavoro che ha costato impegno, ricerca, fatica, ma che è stato premiato. Sì, è passato qualche mese oppure qualche anno ormai da quel momento in cui mi sono presentato qui timidamente a farti vedere e illustrarti appunto il mio primo libro. E' stata un'esperienza bellissima perché ho avuto il piacere di partecipare a tante serate di presentazione nelle varie località della Pedemontana. Praticamente ho girato tutto il quartiere del Piave, la zona del Vittoriese, sono arrivato anche oltre confine a Pordenone e anche qua a Belluno. Sono stato contentissimo di essere stato ospitato anche perché io ho origini bellunesi, ho vissuto tantissimi anni qui, mi sono trasferito a fine degli anni Ottanta nel suolo trevigiano, ma un pezzetto di cuore è rimasto quassù. Con questa mia esperienza iniziale pensavo di aver toccato il cielo, di avere in mano le prealpi trevigiane e invece non era per niente così. Perché alla fine delle presentazioni si avvicinavano, mi dicevano ma come mai non hai raccontato quel determinato sentiero che parte dietro la tal casera? Come mai non hai parlato di Segusino o della Valla Pigina o della Spalla Sud Ovest del Gansiglio? E io pensavo di aver dimenticato soltanto due o tre itinerari e invece la faccenda era ben diversa. Ho tirato le somme, 35 itinerari, ho dovuto fare il libro. Senti, questo è i sentieri nascosti delle prealpi trevigiane, perché sì noi abbiamo riscoperto le prealpi, ma come dicevi tu vuoi che per un caso o anche no ci siano degli incontri che ti danno così un input, stuzzicano un pochino la tua voglia di rimetterti nuovamente in gioco, perché insomma i sentieri nascosti delle prealpi trevigiane è stato veramente impegnativo, ma ricco anche di tantissimi incontri. Sì, oltre a raccontare gli itinerari, perché diciamo che il fulcro è quello, è quello dell'escursione, ho raccontato anche tutto ciò che si incontra camminando, quindi se vedo una chiesetta campestre, se vedo un muro di recinzione medievale, se vedo una chiesa oppure un ruscello, i laghi, io a quel punto sono incuriosito e racconto tutto ciò che incontro. E questo è stato, diciamo, è nato anche grazie all'amicizia che ho stretto con tanti esperti, che sono esperti di escursionismo, ma poi c'è anche il geologo, c'è l'esperto di storia medievale, oppure la storia legata alle città, a Serravalle, a Ceneda, ai castelli di Collalto, di tutte queste cose ho estratto poi un riassunto, ho fatto un mini bignami di tanti aspetti, di tanti temi. Questo è a corollario degli itinerari, sono ben 59 box di approfondimento che arricchiscono la guida. Avevo già fatto la stessa cosa nel primo libro, in questo caso nel secondo libro l'ho approfondito ancora di più. si è espanso questo concetto al punto tale che il numero di pagine arriverà a ben 300 contro i 240 circa del primo libro. E l'editore era un po' arrabbiato con me, però ce l'ho fatta. Tu dicevo, e sottolineo questo aspetto, degli incontri delle persone, di quanto arricchimento hanno portato, ma soprattutto della soddisfazione anche di poter far raccontare loro qualcosa che resta tra virgolette nascosto, perché non è sempre facile riuscire ad individuare delle persone che ti possano raccontare effettivamente la nascita o la storia di determinati particolari che tu hai scoperto. Qualche esempio? Sì, vorrei qualche esempio. Allora, stavo proprio pensando qua, guardando la lista dei 59 temi, le rotte dei pellegrini, pensavo. Questo è un tema anche molto interessante, perché dovete sapere che dalla Mitteleuropa, dal 1500, ci fu un intenso traffico di, se così si può dire, di pellegrini che partivano appunto dal centro Europa e scendevano verso il sud dell'Europa. Le rotte erano dirette verso Roma e verso la Terra Santa. Per quel che ci riguarda, quindi, c'è stato l'attraversamento della dorsale alpina, ma anche della dorsale prealpina. C'è uno studioso, tale Gigi Ghizzo, che tra l'altro saluto se mi sta ascoltando, della zona di Farra di Soligo, che ha fatto uno studio molto approfondito e ha cercato tutto ciò che questi pellegrini, in 500 anni, hanno lasciato nel nostro territorio. Ci sono tracce legate ai Santi, prima di tutto, perché sono giustamente pellegrini legati alla religione, e poi hanno lasciato anche delle tracce riferite, ad esempio, all'architettura delle case, e poi ve ne parlo, magari, hanno lasciato delle tracce riferite anche ai cognomi e addirittura alla cucina. Ma parliamo, ad esempio, un pochettino per quel che hanno lasciato relativamente ai Santi. Se voi andate alla base del San Boldo, verso Tovena, guardando a destra c'è un capitello. Questo capitello è il capitello di Santa Ottilia. Bene, Santa Ottilia è patrona dell'Alsazia. C'è una tradizione che gira nella zona del San Boldo e di Tovena, che questo pellegrino, che era transitato parecchi anni fa, avesse lasciato il teschio di questa santa proprio in quel punto dove oggi sorge il capitello. Giù in paese, alla chiesa di Simone Giuda, ancora adesso è custodito questo teschio. Ma la cosa curiosa è che se andiamo in Alsazia, nella capitale, vediamo, bisognerebbe aprire però il mausoleo, la santa è senza testa. Quindi questa è una curiosità veramente che mi ha stuzzicato l'attenzione. Un altro esempio, se andiamo a San Pietro di Feletto, vi è nella parete della pieve di San Pietro di Feletto, che è una chiesa antichissima, tra l'altro matrice di tante altre chiese del territorio, si dice addirittura matrice di quella di Conegliano, vi è il Cristo della Domenica. Praticamente è la figura di Gesù Cristo ferito, quindi si vede il sangue che esce nelle varie parti del corpo, perché ha lavorato di Domenica. Ci sono gli attrezzi proprio che lo feriscono. Che cosa sta a significare? Sta a significare un monito contro il lavoro di Domenica, quindi del festivo. Bisogna invece pregare durante la festività. E dico questo perché il Cristo della Domenica non è frequente nelle nostre zone, è frequente soltanto nella parte centrale dell'Europa, dove appunto partivano questi pellegrini. Un altro esempio di santo, San Gottardo. Fatalità lo si ritrova nei Capitelli, proprio dove transitano i sentieri verticali, provenienti da Praveradego, provenienti da San Boldo, oppure anche dal mulinetto della Croda verso Refrontolo. si trovano tutti i Capitelli di San Gottardo. Santo non molto frequente nel territorio italiano, invece è molto frequente nella Baviera. Che cosa rappresentava questo santo? Non te lo so dire, so che era un santo riferito alla Baviera, è molto frequente lassù, ed era trascinato da questi pellegrini. Esempi di santi. Ma poi ci sono ad esempio altre cose riferite, che ne so, all'architettura. Nella zona di Praveradego o del San Boldo, troviamo delle case stranissime. Ce ne sono, credo, tre esempi. Hanno praticamente la facciata anteriore e quella posteriore a sbalzo rispetto al piano del tetto. Oltretutto sono a scaglie. È un po' difficile da spiegare adesso in radio, però se ci fosse un'immagine sarebbe molto più facile da capire. Sono case celtiche, le si ritrova ad esempio negli Appennini, ed erano proprio riferite a questo territorio centrale dell'Europa. Tanti esempi lasciati dai pellegrini. Concludo la storia dei santi, perché per voi bellunesi, o per noi bellunesi, diciamola così, c'è anche un collegamento a San Gottardo. Se andate vicino alla Certosa di Vedana, c'è il borgo di San Gottardo, c'è la chiesa di San Gottardo, e se si entra si vede in una parete che ci sono un sacco di stampelle. Col tempo San Gottardo è diventato il patrono del viandante, il patrono del pellegrino, il patrono quindi degli arti inferiori. Ecco perché quindi... Come ex voto ci sono queste stampelle. Esatto, questo. C'è un altro box del tuo libro che mi ha incuriosito tantissimo, ed è il Tenente Berri. Ah, il Tenente Berri. Il Tenente Berri è tutta una storia diversa. Qui si va con i partigiani. Durante i miei racconti di itinerari ho calpestato molto il suolo del Cansiglio, Cansiglio però parte sud-ovest, la spalla che guarda Osigo, Montaner, Fregona, ci sono tantissimi sentieri che salgono in maniera vertiginosa su quella spalla. Quella zona è stata oggetto di frequentazione dei partigiani durante la Seconda Guerra Mondiale perché ovviamente il Cansiglio era impervio, era l'ideale per nascondersi. Il Tenente Berri era un comandante dell'aviazione dell'Air Force americana ed è stato abbattuto nella zona di Vicenza durante una sua missione con l'intento di bombardare la linea ferroviaria verso il Brennero. I tedeschi lo hanno abbattuto, lui è caduto con l'aereo, sono morti tutti all'infuori che lui. Quindi lui si è trasferito in un primo tempo verso il Grappa, poi si è orientato verso la spalla prealpina, dobbiamo tenere presente che era nel momento proprio dell'inverno, quindi neve alta, ha avuto un inferno questo poveraccio per trasferirsi, si è fermato a Sant'Antonio di Tortal dove ha trovato un primo nucleo di suoi colleghi che però non gli hanno dato ascolto perché lui doveva rientrare verso l'est, verso la Jugoslavia, dove c'era un corridoio aereo allestito specificatamente dagli americani per far rientrare alla base di Ghisonaccia in Corsica i piloti abbattuti. Quindi si è trasferito successivamente verso la spalla del Consiglio, ha trovato la neve altissima e lì si è fermato. Non è più riuscito a continuare verso l'Alpago ed ha incontrato un gruppo di partigiani che tra l'altro facevano parte della Brigata Cairoli. Si unì a questi suoi amici, se vogliamo, e questi hanno trovato la cuccagna con questo tenente Berry perché sapeva la lingua e quindi riusciva a coordinare i voli degli americani. Inoltre era preparatissimo a livello tecnico perché la sapeva a lunga in tema di aviazione e nel Consiglio si svolgevano i lanci, questi lanci che servivano a mandare da parte degli alleati a terra questi cassoni che erano pieni di viveri, di alimentari e di armi. Lui aiutò questi partigiani, alla fine fu acclamato, scese in paese prima a Fregona poi andò a Venezia e fu anche decorato con la croce, la Silver Star, la croce d'argento da parte dell'esercito americano. Ancora adesso ogni anno si svolge un ringraziamento in Consiglio proprio in nome di questo tenente. C'è un incontro dove si ricorda questo. C'è un incontro a Cimapizzoc e gli hanno dedicato un sentiero, il sentiero del tenente Berri che parte dalla località Cadolte e va in località Cross, va a Pian di Gesia dove si svolgevano questi lanci e poi si conclude proprio a Cimapizzoc. È uno dei 35 itinerari del libro. Chi ti ha ispirato al tenente Berri? Chi mi ha ispirato? Sì, no, nel senso chi ti ha raccontato questo aspetto del tenente Berri? Ah, beh, un bel giorno camminando vedevo le tabelle tenente Berri, il sentiero del tenente Berri. Da lì poi... La curiosità. La curiosità. Avevo già approfondito qualcosa sui partigiani col sentiero Pagnoca. Un nome stranissimo che era il soprannome del comandante del gruppo Brigate Vittorio Veneto, vice comandante della divisione Nannetti, il quale era un personaggio nella zona di Montaner. Da lì poi si è agganciato il tenente Berri. Dunque, personaggi, insomma. Si va a quello che è l'obiettivo, diciamo, ovvero gli itinerari. E allora, vorrei con te, se è possibile, e se riesci a trovarcelo, a raccontarcelo, un sentiero nascosto. Un sentiero nascosto che vedo anche adatto ai bellunesi, perché si avvicina più a territorio bellunese, direi il Troi delle Lisse. Troi, chiaramente, è in dialettale, significa sentiero. Sentiero, sì. Troi delle Lisse è sulla spalla sud-ovest del Visentin. Lo scelgo perché è un sentiero veramente nascosto. È difficilissimo capire dove parte, perché io ho transitato per anni un sentierino che è il Troi delle Casere, che parte da Caloniche di sotto, sale al Tombaril e poi fa un traverso lungo quello che è il Troi de Medo o Troi de Mez, come erroneamente alcune carte riportano. Passando per questo sentiero, mai mi sarei immaginato che a circa 700 metri di quota partiva una direttrice. Una direttrice orizzontale, parallela al Troi de Medo, a quote però più basse, perché il Troi de Medo è 1.400 metri circa. Questo invece si svolge attorno ai 700-800 metri. È un sentiero abbastanza lungo, abbastanza impervio, che va a visitare delle zone abbastanza aride della spalla meridionale del Visentin. Oltretutto è anche pericoloso durante l'inverno, adesso ormai il pericolo è scongiurato, però se si andava un mese fa si rischiava di beccarsi qualche slavina. È un sentiero che i più anziani ricordano anche come il Troi dei Tosat. Poi ho capito il perché, perché in tempi, nel periodo di Mussolini, c'erano i ragazzini che andavano a piantare le piantine, perché era una tradizione di quell'epoca. E quindi i più anziani l'hanno chiamato, l'hanno battezzato il Troi dei Tosat. In realtà è il Troi dell'Elisse, perché l'Elisse è una zona levigata, per chi percorre la A27 nell'autostrada, se butta l'occhio verso la spalla del Visentin, vedrà che c'è una zona completamente rosa, non c'è vegetazione, ed è appunto la presenza di questa roccia calcare allevigata, da cui il nome l'Elisse. Il sentiero parte da Caloniche di sotto e passa delle località come il Murlonc, il Gravon del Salt, il Gravon del Verdillon, le Loghere, insomma, tanti nomi un po' strani, per arrivare alla fine a Borgo Collon, che lo si vede uscendo dalla galleria Montebaldo, se si butta l'occhio verso la vetta del Visentin, si vedono dei nuclei abitati, uno basso è Croda Rossa, quello più alto è il Borgo Collon, si arriva lì. Tu sei una fonte, nel senso che siamo quasi in dirittura d'arrivo del nostro appuntamento con un passaggio in libreria e incontro con l'autore. E siccome quante pagine hai detto sono? 300 esatte. Ecco, 300 esatte. Noi non possiamo raccontare in 15 o 18 minuti che sarà questo libro di 300 pagine, anche perché ci sono veramente tanti spunti. Allora, colgo l'occasione per rinvitarti ancora qui negli studi di RBL, perché così magari creiamo un altro filone per approfondire altre cose. abbiamo in tempo secondo me per scavare ancora e andare ancora nel più nascosto, nel più quello sconosciuto. Ne hai ancora uno più sconosciuto di sentiero? se vogliamo proprio andare anche distanti andiamo proprio al confine orientale del mio territorio raccontato andiamo ai confini con il Friuli la strada del Patriarca questo sentiero è bellissimo perché intanto è molto lungo però senza grandi strappi sale lo spigolo sud occidentale della Mattonella del Cansilio io la chiamo Mattonella perché a livello geomorfologico si è sollevato proprio come fosse un grande blocco di mattone se guardiamo lo spigolo sud occidentale quello che guarda Villa di Villa di Cordiniano quello che guarda poi il confine quel Friuli c'è un percorso che sale molto dolce molto lungo passa delle località come Maloria arriva poi più avanti in direzione della Crosetta la chiamiamo oggi Crosetta in realtà è Petra Incisa e in quella zona anticamente fu creata una strada appunto la strada del Patriarca Patriarca di Aquileia e noi ci chiediamo ma perché si è fatto la strada beh perché nella zona del Vittoriese nella zona del Trevigiano c'erano i Dacamino la famiglia Dacamino era terribile per 200 e qualche anno in più aveva scorazzato in tutta quella zona poi addirittura si è spostata qui nel Bellunese è arrivata nella zona del Primiero insomma erano fortissimi volevano sfondare anche verso il Friuli hanno trovato però un ostacolo che era rappresentato dal Patriarca quindi Patriarca e i Dacamino non andavano d'accordo i Dacamino avevano poi i diritti di passaggio alla muda di Serravalle verso quello che era l'antica strada reggia che portava verso il Fadalto e volevano chiedere i dazzi anche al Patriarca il Patriarca ha detto eh no io non ti do i soldi cari Dacamino mi faccio la strada e difatti si è costruito questa strada che ancora adesso è presente però a tratti perché l'urbanizzazione ma poi anche il tempo ne ha distrutte delle porzioni se camminiamo per questo sentiero che è il numero 35 del libro quindi sulle tracce della strada del Patriarca e vediamo queste porzioni di muro a secco laterali molto belle molto frequentate per gli abitanti della zona ma è poco conosciuta al di fuori del territorio di Stevena di Villa di Villa di Caneva eccetera perché sono molto gelosi sono delle persone a cavallo tra due regioni addirittura e si sono creati un po' il loro mondo basta andare che ne so a Montaner che è poco distante non ne sa niente di questa strada ma tu pensa quante volte hai verificato tutti i dati che hai raccolto ecco una cosa che ho scoperto poi scrivendo questo secondo libro tramite il redattore che è di Milano questa persona che ha lavorato per la Touring Club mi diceva Giovanni ma tu sai che sono pochi quelli che si mettono a fare i libri lavorando sul campo e non capivo cosa voleva dire questo lavorare sul campo ho scoperto che tanti si mettono a fare dei libri o facendo riedizioni oppure mettendo a tavolino degli itinerari e quindi camminando anche poco io non lo sapevo perché un po' da polentone andavo a camminare e scrivere ma se posso dirla tutta io ho camminato ho fatto quasi i dati esatti li ho qua ho fatto ben 410 km di tracciati in questo secondo libro e sommando a quello che ho fatto nel primo libro sono 804 km di sentieri nella spalla meridionale spalla trevigiana diciamo delle prealpi tutte tracciate con il gps tutte verificate sul posto minuziosamente facendo proprio le fotografie metro per metro sono quasi 15.000 foto scattate in questa seconda opera e ho fatto quasi 50.000 metri di dislivello in 14 mesi quindi insomma le mie gambe ormai sono anche un po' stanche devo prendermi un po' di riposo ma ce l'ho messa tutta io spero che il mio lettore sarà contento del lavoro tra virgolette sarà a riposo perché inizierà la presentazione il lancio ufficiale di questa tua nuova pubblicazione se non sbaglio la prima tappa è a Pieve di Soligo il 16 di aprile esatto a parte una serata che dedicherò a chi ha collaborato perché sono ben 107 le persone che hanno collaborato alla stesura del libro tra i vari esperti di escursionismo i esperti di storia di geomorfologia di quant'altro e dedicherò appunto questa serata a loro e il lancio ufficiale è per martedì 16 aprile a Pieve di Soligo alle 20 e 30 presso l'auditorium Battistella insieme al comune lo faccio allora Giovanni Carraro ha detto che verrà a trovarci ancora in passaggio in libreria incontro con l'autore e sì e ti aspetto qui perché effettivamente ci sono degli aspetti che mi colpiscono ancora soprattutto ritornare un po' su quelle che sono le orme della grande guerra bene allora magari la prossima volta ne parleremo questo aspetto allora ti aspetto ancora Giovanni Carraro è stato con noi ha presentato quest'oggi la sua nuova pubblicazione i sentieri nascosti delle prealpi trevigiane alla prossima Giovanni grazie a tutti